Abbiamo un masso di carta Dimmi una carta 3 di cuori 3 di cuori Il 3 di cuori sarà magicamente la prima carta del masso Incredibile E no, non è 3 di cuori Ah no No Facciamo cosa allora Un mago quando sbaglia lo riconosce E allora prendiamo l'astuccio Gesto magico No Scomparito Scomparito